Sì, non c'è un problema, non c'è problema, sono italiani. No, metti la dritta, metti la dritta Avanti giù Avanti giù Qu'è il posto? 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 E' un posto per battaglia Ah, ok. I'll try to remember. Ok, ehh, how about we take... Anybody has to pee? Pee? Pee-pi? No. No, taca, al-pi-pi. Poi da'ji, non so, non so, non so, non so, non so. Ma perché mai la gente di molto molto pesca, non so, non so, non so. Non so, non so. No? Potem. Tu mosto šli. No, tu mosto pršli do te konce. Perhitero. Ok, bo. Obbijok. Lahko, lahko, jo. Ampak vseeno. Vseeno, še kje do deli. Esi da solo. Ah, je ba' ura. No, vaj, vaj. Skerze, no? Vajte kamer, no? Ok, buonga, va, no? Ok, no, vaj, go. Dai, tu sai il totem. E' co' l'energia che ti rimane. Ecco l'energia che ti rimane, no? Ah, ovviamente ce l'ho messo da verbo. Wouhou! Grande! Spressione, perché poi c'è appunto sale. Sė, c'è la... La curvatura, sė. Guarda! Sì! Grazie a tutti. 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 Perfetto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.